Ciao, io sono Francesco Ricchichi e ti do il benvenuto in Surf VHDL Podcast, il primo podcast italiano e attualmente anche mondiale che parla di progettazione hardware in VHDL. In questa puntata voglio rispondere a un ragazzo che mi ha scritto qualche giorno fa chiedendomi... la domanda era I need a clock? Cioè, mi serve un clock? Bene, a me fa molto piacere che a te serve un clock però il punto è che non era molto chiara come dire non è molto chiaro evidentemente il significato di clock e come viene generato un clock e a che cosa serve il clock io molto spesso do alcune cose per scontate ma evidentemente non lo sono fondamentalmente la storia è lui sta generando un design di un PWM che è quello... penso che sia quello che ha preso dal sito e come ogni design digitale nel design c'è un clock questo fa parte di qualsiasi design digitale sincrono ovviamente nel momento in cui tu vai a inserire quel design in un FPGA o in un ESI avrai un clock fornito da una scheda, da un oscillatore non è che il clock si autogenera come nei test bench dove noi scriviamo clock minore uguale not clock dopo 5 nanosecondi abbiamo generato un clock da 10 nanosecondi da 100 MHz nella realtà ci sarà un oscillatore che genera un clock quindi il suo problema era avere questo clock allora distinguiamo intanto le due cose fin tanto che noi facciamo un design digitale noi avremo sempre bisogno di un clock per simulare il nostro design prendiamo l'entità che abbiamo descritto la inseriamo in un codice VHDL che fa la test bench dopodiché nel test bench generiamo fittiziamente i segnali che servono a stimolare la nostra entità ovviamente fra questi segnali ci sarà il reset e il clock per generare un clock in un test bench è molto semplice basta dichiarare il segnale inizializzarlo a zero altrimenti rimane ad U e clock minore uguale not clock quando il clock è inizializzato a U farà sempre U quindi lo inizializziamo a zero o ad uno dopodiché nella parte concorrente dell'architettura basta una semplice assegnazione del tipo clock minore uguale not clock after un certo numero di nanosecondi picosecondi, microsecondi dipende dal clock di cui abbiamo bisogno e il simulatore genererà l'assegnazione ogni ad esempio se noi scriviamo clock minore uguale not clock after 5 nanosecondi ogni 5 nanosecondi il clock va su e giù quindi fra i due fronti di salita o di discesa passeranno 10 nanosecondi e questo genererà un clock da 100 MHz questo fin tanto che noi stiamo simulando quando noi vogliamo inserire il nostro design ad esempio in un FPGA collegheremo le porte ai pin dell'FPGA e lì avremo bisogno oltre che dei segnali di ingresso uscita anche del segnale di clock e di reset per il segnale di reset generalmente si collega il segnale quindi la porta dell'entità si collega a un pin che è connesso ad esempio a un pulsantino nei miei corsi sia quelli nei miei corsi che trovi su teachable vedrai molti esempi del genere dove io ho collegato il segnale di reset a un pulsantino della scheda che utilizzo la pressione del pulsantino genera il segnale di reset che inizializza tutta la logica interna per il segnale di clock invece abbiamo bisogno di un oscillatore il nostro amico pretendeva di generare il segnale dall'FPGA utilizzando lui sta utilizzando una Zincu della Xilinx utilizzando il core generator con l'IP di PLL ovviamente un PLL anche ha bisogno di un clock perché moltiplica o divide quindi genera un clock derivato da un altro clock di riferimento per moltiplicazione e divisione ma se non diamo il clock di riferimento l'FPGA non può generare un clock di per sé in realtà alcune FPGA adesso cominciano ad avere degli oscillatori interni che generano un clock di riferimento che viene utilizzato spesso per clock di servizio nel senso se io devo utilizzare la mia FPGA come controllore allora a quel punto potrei non aver bisogno di un clock stabile, perfetto, accurato ma mi serve un clock giusto per alimentare la mia logica interna a quel punto anche un oscillatore non molto preciso mi potrebbe andar bene risparmiando dei componenti sulla scheda dove vado a montare la mia FPGA ma questo è un caso particolare in generale il clock deve venire dall'esterno e viene collegato in un pin dell'FPGA che generalmente è adatto a ricevere quel tipo di segnale perché il clock rispetto agli altri segnali deve essere un po' più curato diciamo in quanto con il clock noi andiamo a campionare tutti i segnali sia interni che esterni quindi la pulizia del clock deve essere tale che non abbiamo ad esempio dei rimbalzi sul segnale provocherebbero ad esempio un'alterazione della frequenza ad esempio se il mio segnale che va alto-basso ogni 10 nanosecondi avesse un rimbalzo quindi quando va basso il segnale scende giù torna su per un piccolo periodo di tempo e poi ritorna giù la mia FPGA potrebbe vedere quel rimbalzo come effettivamente un cambio di stato quindi il mio clock da 10 nani per qualche istante si potrebbe comportare che va giù torna su per 3 nanosecondi e poi ritorna giù in quel punto potrebbe diventare un clock che ha 10 nani di periodo ogni intanto un periodo da 3 nanosecondi tu capisci bene che una situazione del genere potrebbe anche diventare disastrosa nel caso in cui il mio design l'analisi statica del mio design non garantisca il funzionamento per un clock così veloce generalmente questo tipo di comportamento è molto veloce e fa sì che il design non si possa comportare in maniera nominale durante queste transizioni anomale quindi per riassumere quando noi facciamo il design il nostro clock deve necessariamente venire da un oscillatore l'oscillatore generalmente è esterno alcune FPGA permettono di avere un oscillatore interno ma non è molto accurato ma questo è un caso particolare quindi qualsiasi cosa noi andiamo a fare dobbiamo prevedere nella nostra scheda generalmente se compriamo una scheda nella scheda già è previsto uno o più oscillatori che ci forniscano dei clock di riferimento bene per oggi credo sia abbastanza per rispondere come risposta ci sentiamo alla prossima puntata ciao